Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video e scusate il ritardo ma oggi era domenica e ho preferito rimanere a letto un po' più a lungo, non me lo concedo quasi mai e quindi oggi ho detto vabbè dato che poi la Juve gioca stasera proviamo a fare questa cosa. Ci sono diverse cose da analizzare perché stasera si gioca una partita importante, io torno a ribadire per me non è decisiva anche perché abbiamo avuto ieri la dimostrazione di come la Juventus può trarre dei vantaggi virtuali ma che diventeranno concreti semplicemente rimanendo sul divano e guardando le altre partite, vado a tradurre. Il Bologna perso è stato un risultato per me inaspettato perché con l'Inter che aveva in testa Madrid e col turnover che c'è stato e tutta questa roba mi aspettavo almeno un pareggio o comunque una vittoria del Bologna sicuramente non una vittoria dell'Inter che paradossalmente rispetto a come si era andata a indirizzare la stagione è un risultato positivo per la Juve il fatto che l'Inter abbia vinto Bologna proprio perché il Bologna avendo perso punti virtualmente permette alla Juventus di doverne conquistare di meno per accedere. alla Champions League l'anno prossimo. Io ho visto il secondo tempo di partita mi sono purtroppo perso il primo il secondo tempo è stato un monologo del Bologna veramente un monologo del Bologna che giocava contro un Inter ripeto rimaneggiata e con la testa a Madrid però ha dominato fortemente gli avversari non meritava secondo me di perdere il Bologna ieri ma la cosa che mi ha lasciato veramente impressionato in maniera positiva è come Tiago Motta prepara le marcature preventive. cioè le marcature preventive la riaggressione del Bologna erano feroci veramente qualcosa di difficile per giocare contro Bologna bisogna veramente fare una buonissima partita e l'Inter non devo stare neanche qui a dirvi che tipo di squadra è e questo un po' preoccupa in vista anche della partita che dovremmo andare a giocare a Bologna che mi pare essere la penultima sul calendario di Serie A. poi magari in quel momento sarà un altro Bologna avrà magari già raggiunto determinati obiettivi e non lo so però sicuramente il Bologna è una bestia nera no in questa stagione è una squadra molto forte ma soprattutto molto organizzata e la forza nasce tutta da lì. l'Atalanta invece è un'altra squadra di quelle che lotta per arrivare nei primi quattro anche se in questo momento sono in un momento no perché nelle ultime quattro partite tra Inter, Milan, Bologna e Sporting non hanno mai vinto due pareggi e due sconfitte poi hanno perso appunto contro l'Inter e Bologna che stavamo parlando prima sono probabilmente le due squadre più in forma in Italia in questo momento e l'Atalanta era una di quelle più in forma prima di queste quattro partite poi avendo lasciato per strada i punti sul recupero con l'Inter, col Bologna l'ultima giornata e col Milan a San Siro, ovviamente l'Europa League è un discorso a parte l'Atalanta si è un po' ridimensionata ma rimane una squadra molto molto dispettosa, fastidiosa. L'Atalanta è la classica squadra contro cui non vorresti mai giocare perché ha dei punti forti assoluti i loro punti più estremi dove loro sono più pericolosi sono sicuramente gli esterni da tre quarti. Credo che lì si andrà un po' a decidere la partita e allora sugli esterni bisogna che Cambiaso e Healing, poi parleremo della probabile formazione ma dovrebbe giocare ancora Healing, possano fare quel qualcosa in più e che Locatelli dia una mano perché loro verranno spesso e volentieri su altri quarti tra De Chetelare, tra Copmeiners, tra Lukman che non è una vera e propria punta andranno a giocare spesso in quella posizione lì e Locatelli deve dare una mano alla difesa perché se no ci troviamo sempre il giocatore tra le linee non sa mai il difensore chi deve uscire, Locatelli che deve uscire, no, Locatelli deve dare una grandissima mano quindi oggi la prestazione di Locatelli sarà indispensabile per poter portare a casa i risultati così come quella dei due esterni per la Juventus da questo punto di vista anche delle soluzioni alternative in panchina che può buttare dentro per avere un po' più di fiato nei minuti finali perché poi arriveremo a vedere che l'Atalanta è una squadra che la partita tende a farla finire quando l'arbitro fischia quindi sono partite veramente lunghe, sono partite da 95-100 minuti a seconda di quanto sarà il recupero in media Ederson, Derone e Copmeiners corrono molto di più, non molto no, però corrono di più dei nostri tre centrocampisti titolari quindi anche qui dal punto di vista dei polmoni servirà qualcosa in più anche perché l'Atalanta è la seconda squadra in Serie A per chilometri percorsi stiamo parlando di una squadra che dal punto di vista fisico crea le sue fortune quindi l'Atalanta va limitata anche e soprattutto lì e ha un elevato rapporto di tiri totali con quelli in porta quindi attenzione a farli calciare anche perché hanno dei calcianti veramente interessanti dei calciatori che possano tirar fuori il coniglio dal cilindro con un tiro e se becca alla porta sono pericolosi anche perché abbiamo visto hanno segnato più gol della Juventus quindi questo è un dato, oltre al fatto che noi in casa con l'Atalanta non vinciamo dal 2018 bisogna starci molto attenti sono la migliore, la migliore in assoluto e con distacco squadra in Serie A per recuperi quindi una cosa che oggi deve essere per forza di cose fondamentali sono le seconde palle non possiamo scendere in campo con l'atteggiamento molle che abbiamo visto nelle ultime perché se scendiamo in campo così l'Atalanta ci mangia in testa letteralmente quindi le seconde palle devono essere per forza di cose una di quelle situazioni preparate bene oggi devono essere state preparate bene e devono derivare da un atteggiamento differente da parte dei calciatori ma questa è una roba che andava preparata prima e poi messa in pratica in campo sia da parte della guida tecnica sia da parte dei calciatori sono la seconda migliore squadra in Serie A per gol dalla panchina con 10 lo dicevamo prima, l'Atalanta ha tanti giocatori basti pensare che Scamacca che è stato un acquisto da tanti soldi per una squadra come l'Atalanta non è un titolare quindi occhio perché a seconda poi dei giocatori che ha davanti l'Atalanta va ad adeguare lo sappiamo, Gasperini ha la possibilità di far crossare dal quinto di centrocampo al quinto di centrocampo tante volte l'Atalanta prova questa soluzione anche con dei cross bassi ad andare a cercare l'altra parte del campo e trovare l'uomo libero ragiona molto con il terzo uomo occhio perché poi quando invece entrano giocatori come Scamacca anche il gioco aereo diventa qualcosa di potente poi che la Juventus sul gioco aereo sia meglio predisposta perché è bene o male l'unica situazione nella quale la Juve si trova estremamente a suo agio questo è un altro discorso però su tutti questi palloni giocati bassi sulla tre quarti o sugli esterni sono situazioni che ci mettono in difficoltà anche perché l'Atalanta dribbla tantissimo con i suoi giocatori e quando saltano gli uno contro uno diventa un problema quindi io mi immagino quasi una Juve come è stata col Sassuolo in casa quando abbiamo vinto 3-0 con Locatelli molto molto basso vicino a Bremer che permette di avere quasi in fase di non possesso un 4-4-2 con i raddoppi sugli esterni perché se non andiamo a raddoppiare gli esterni l'Atalanta ci mangia in testa e ovviamente faccio questa considerazione sulla base di quelle che sono state le partite in queste stagioni approcciate da Allegri se penso all'andata invece è stata una partita super super chiusa in cui la Juventus non era assolutamente interessata a fare risultato l'importante era non subire gol occhio perché non siamo più in quella situazione in cui la Juve scende e dice va bene ok adesso non subisco gol quella roba lì è durata 10 partite e adesso invece il gol lo subisci anche quando hai la difesa schierata o 8 uomini in area basti pensare al gol di Chedira col Frosinone e il Juventus è in una brutta situazione l'Atalanta pure ma non dobbiamo dimenticarci che noi in questo momento dal punto di vista difensivo non possiamo basare le nostre fortune e quindi servirà qualcosa in più anche dal punto di vista offensivo l'Atalanta tende a segnare tra i primi 15 minuti del primo tempo anzi tra i 15 minuti finali del primo tempo i primi 15 minuti del secondo e gli ultimi 15 in generale più i recuperi allo stesso modo sono anche i momenti in cui l'Atalanta cerca un po' più di scoprirsi probabilmente quindi subisce anche più gol occhio perché significa che l'Atalanta va ad aumentare il suo baricentro e che quindi la partita rischia di aprirsi se la Juve non sarà brava a mantenere le distanze e provare magari a vincere le regressioni in maniera organizzata cercare di andare a pressare i giocatori di Atalanta quando partano con l'azione da dietro è un bel problema perché abbiamo visto che la Juventus è una squadra che si sgretola in quelle situazioni in cui deve andare un po' su, un po' giù un po' su, un po' giù stiamo molto molto attenti bisogna essere ordinati, bisogna essere compatti bisogna essere organizzati e bisogna cercare di riaggredire l'Atalanta perché se oggi scende in campo senza voler aggredire l'Atalanta finisce molto molto male poi passiamo alla probabile formazione dovrebbe essere 3-5-2 dovrebbe essere confermato Cesni in porta Gatti, Bremer e Danilo come terzetto di difesa titolare il ritorno del capitano e il ritorno anche di Gatti che non aveva giocato l'ultima partita appunto Cambiaso e Eiling sugli esterni a centrocampo una situazione quasi obbligata perché Locatelli si, gioca McKennie stringe i denti l'altro per forza di cose è Miretti davanti la Juve non ha Vlaovic gioca a Milica al suo posto al suo fianco Federico Chiesa ancora una panchina per Ildis che ieri Allegri ha definito più pronto rispetto a prima per via delle pressioni, piedistalli con le robe lì boh a me sono cose che lasciano abbastanza interdetto perché se un giocatore forte deve giocare che abbia 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni non mi interessa se deve giocare, se è pronto e forte deve giocare è giusto che giochi mi dispiace ancora non vedere Ildis e Chiesa titolari insieme un giorno spero che si possa arrivare ad avere una formazione titolare di questo tipo ma questo è tutto quello che dovevo dirvi in preparazione del match di oggi Juventus-Atalanta ricordo si gioca alle ore 18 non prendetevi libera la serata bensì il pomeriggio perché sennò poi rischiate di non vedere la partita noi ci vediamo in live su Twitch come al solito fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti non voglio vendervi fumo e quindi vi dico che non sarà facile non sarà facile è una partita difficilissima adesso oggi le partite per l'Eventus sono tutte difficili tutte difficili a maggior ragione quelle contro squadre come l'Atalanta che rendono le partite difficili anche quando le squadre stanno bene ciao ragazzi